Mi spiega con l'inflazione, i tassi che crescono, i problemi economici che abbiamo? Mi dice una persona che può governare meglio di Draghi? No, no, però questo era... Allora, chi lo facciamo governare? A Corte? Lo facciamo governare a Salvini? No, la Meloni potrebbe governare perché ha una vasta esperienza di governo.